Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, a qualche ora dalla partenza vi faccio vedere che cosa mi porterò dietro nel travel 540 litri per il cammino di Santiago dell'isola Gran Canaria e per tutte le escursioni traverse per una settimana di avventure. Per prima cosa fatemi ringraziare Decathlon Grosseto che mi ha sostenuto con questo zaino, mi raccomando se sei della zona ma anche non passami pure a trovare il negozio, magari ci facciamo una chiacchierata sulla montagna e magari posso darti anche qualche consiglio sulla tua attrezzatura. Mi raccomando iscriviti anche al canale, iscriviti anche al mio canale Telegram dove pubblico offerte scontistiche per quanto riguarda il mondo della montagna nell'universo Decathlon. Parlando invece di quello che mi porterò dietro, per prima cosa vi parlo del peso, circa 6 kg. Sono andato in negozio, ho pesato lo zaino, tra l'altro troverai anche sul canale la recensione sul pesavaligie un aggeggino da una decina d'euro che però comunque è utile per esempio quando devi prendere ovviamente l'aereo. Zaino se non ve l'ho detto pesa appunto circa 6 kg. Fondamentalmente il problema di questo peso è dato da la stragrande maggioranza che è dell'attrezzatura per girare i video come drone, Osmo Pocket, carica batterie, il telecomando del drone che è un pataccone, custodietta per riporre il drone in sicurezza, insomma un po' di cose che appunto comunque fanno peso. Andiamo ad aprire adesso il nostro travel per andare a vedere, ecco qua ragazzi, ma quanto è figo questo zaino amici miei. Guardate qua come si può andare a segmentare il materiale all'interno dello zaino, però adesso non ci soffermiamo qua perché ci sarà un video dedicato su di lui, la recensione definitiva, andiamo a vedere che cosa mi sono portato. Qua ho messo ovviamente l'abbigliamento, troviamo la mia impelatissima, mio impelatissimo pile MH500 light, colpa dei gatti, mi porterò un pantaloncino tecnico, l'MH100, farò una recensione anche su di lui, mi porterò due magliette, questa qua la userò semplicemente per dormire e porterò una maglia in lana merinos e un'altra maglia in lana merinos per camminare, quindi avrò due maglie per appunto una settimana di escursioni, una per dormire e un pantaloncino, nell'eventualità appunto rischieremo di prendere la pioggia, nell'eventualità appunto mi bagnerò i pantaloni per quel lastro di tempo dove devo far asciugare i pantaloni, magari se c'è necessità ho questo pantaloncino che ragazzi guardate è mega, iper, ultra, comprimibile. Il paellino sono stretto a portarmelo perché passeremo la notte diverse ore in aeroporto, dobbiamo prendere il treno, partire, abbiamo un po' di spostamenti da fare, comunque in questi giorni in Italia non fa caldissimo e quindi sono costretto comunque a portarmelo. Andiamo avanti adesso, parliamo dell'intimo, ragazzi semplicemente vabbè lo apro un po' al volo ma mi porterò due paia di mutande più quella che indosso, un costume perché siamo sull'oceano ragazzi e se non mi porto il costume sono un idiota, per il resto ho semplicemente due paia di calze, una di queste la indosserò, partirò con, ho sia l'MH, scusate, il Like 500 bassi e un Like 900 alta, il Nana Merinos. Mi porterò queste tre calze, con una partirò e ne avrò solamente due di ricambio, anzi praticamente sono più che sufficienti, basterò lavare l'altra, mettere ad asciugare, comunque sono prodotti con asciugatura rapida che vi straconsiglio. Passiamo adesso di qua a questo scomparto gigantesco dove all'interno troviamo poncio perché incredibilmente andiamo, Tom Search va all'isola Gran Canaria e piove, poncio 500, molto carino, è quello con le braccia, non pesa tanto, non ha un grande ingombro, ha una sacchetta dedicata per andare a riporlo, a questo punto dato che me lo porto speriamo diluvi potentemente durante il cammino così possiamo testarlo nel migliore dei modi. Ovviamente un paio di ciabatte ultra economiche perché c'è spiaggia, magari no, c'è quell'ora dove facciamo finta di non essere camminatori e facciamo il bagno, poi troviamo kit medico dove all'interno c'è un po' di tutto, un po' pochine cose, siamo in due, più che altro è il kit medico classico, ho semplicemente aggiunto magari con PID per eventuali vesciche, speriamo di no, comunque li aggiornerò ovviamente ci sarà anche la recensione sulle scarpe MH500 ed infine il malloppone che pesa qua all'interno ragazzi, secondo me qua siamo addirittura sopra i due chili dove ho tutto quello che mi serve per appunto girare i video, qua dentro c'è il Mini 3, troviamo poi il pad che pesa più del drone, troviamo poi la power bank, una torcia frontale perché può capitare di utilizzarla, carica batteri del telefono e cavi vari. Questo qua è lo scomparto, diciamo la cosa che pesa di più, però devo portarmela per forza per appunto girare i video. Che cosa vi faccio vedere? Poi nient'altro, oggi mi sono comprato una borraccia nuova perché io utilizzo praticamente oramai da mesi la sacca idrica, la mia vecchia borraccia si era rotta in alluminio e ho dovuto ricomprarne un'altra, ho comprato questa qua semplice semplice da un litro, eccola qua ragazzi, i miei sacchi borraccia veramente molto semplice. Bene ragazzi, tutto quello che mi porto è racchiuso qua, ovviamente quello che avrò indosso sono le MH500, MH500, pantaloni MT500, una maglia in lana Merinos e poi utilizzerò il pile MH500 Light che già lo avrò addosso quindi ci sarà anche quello spazio nello zaino. Fatemi sapere voi che cosa aggiungereste, magari cosa togliereste, fatemi sapere la vostra perché ricordatevi che noi siamo una community. Ovviamente mi porterò anche il cappello perché c'è molto caldo, c'è un cappello ovviamente che protegge da reggio UV, vedremo se sarà funzionale, mi porterò ovviamente creme solari, eccetera, però quello fa parte delle cosettine che si porta a Mara, invece no perché sono all'interno del kit medico, ho fatto un attimamente locale. Ci vediamo al prossimo video, ricordatevi che siamo una community, quindi consiglio a me, io consiglio a voi, ci consigliamo a vicenda e tutti siamo più contenti. Ci vediamo al prossimo video, un saluto al vostro Tom. Ciao ragazzi, noi partiamo.